Per la prima volta tre Vescovi si metteranno in cammino in Terra Santa muovendo all'unisono gli stessi passi sulle radici della cristianità. Prende forma nella provincia di Pesaro Urbino il primo pellegrinaggio capace di unire tre diocesi, quelle di Pesaro, Urbino e Fano, i cui pellegrini dal 10 al 17 agosto 2023 cammineranno assieme sul suolo della Terra Santa al fianco di Monsignor Sandro Salvucci, Monsignor Giovannitani e Monsignor Armando Trasarti. Un percorso di fede senza precedenti che l'Arcivescovo Metropolita di Pesaro ha presentato oggi in Episcopio alla presenza degli organizzatori del progetto. Andare in Terra Santa significa andare alle sorgenti della fede e dell'identità dei cristiani e le chiese che vivono sparse per il mondo, le chiese che vivono nel pesarese fanno questo cammino verso la chiesa che è la madre di tutte le chiese, laddove tutto è iniziato dopo i fatti che conosciamo bene della Pasqua, della morte e risurrezione di Gesù e della Pentecoste quando Gesù appunto ha promesso e ha donato lo Spirito Santo affinché gli apostoli e i cristiani, i suoi discepoli, fossero suoi testimoni, annunciatori del Vangelo, della buona notizia, della pace fino agli estremi confini della Terra. Per noi tornare lì significa ripartire da dove tutto è iniziato, significa ridare slancio alle motivazioni della nostra fede, ritrovare le radici e ripartire quindi anche con un impegno rinnovato tornando a casa per essere testimoni qui di quel Vangelo che Cristo ci ha donato. Come appunto Ufficio Nazionale Israeliano del Turismo siamo veramente onorati di essere presenti a questa iniziativa e soprattutto è nostro desiderio partecipare all'organizzazione di questo progetto. Tre Vescovi in cammino nella Terra Santa, in Israele, dopo l'esperienza ahimè del Covid che si sta cercando di superare, importantissimo perché? Perché questa esperienza può far rinascere veramente il desiderio del viaggio, di tornare in questa straordinaria terra, regalando un'esperienza unica a tutti coloro che la vorranno vivere fino in fondo. Da Nazareth a Betlemme, dal lago di Tiberiade al deserto di Giuda, da Betania fino a Gerusalemme. Da domani partono le preiscrizioni per un viaggio i cui costi, orari e dettagli si definiranno cammin facendo in base al numero dei partecipanti e all'evoluzione dei prossimi mesi sui collegamenti aerei. Si tratterà di capire quante sono le persone e come il numero delle persone e come poterle distribuire nelle location degli alberghi. Vedere appunto dal numero dipenderà anche, dipenderanno i voli e quindi aspettiamo di avere le iscrizioni e le preiscrizioni perché avverranno online, le preiscrizioni saranno online nei siti delle varie diocesi attraverso il QR Code con una scadenza il 30 gennaio e invece le iscrizioni avranno scadenza il 10 di maggio successivamente sempre attraverso i siti delle varie diocesi attraverso il QR Code.